Ciao 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 E è stato così, Fabio ha detto Tom, ho iniziato tutto questo a parlare con mio fratello e dopo l'ho provato e mi è piaciuto molto e per questo sono molto felice di stare qui e di vedere tutto quello che pensavano che adesso è in verità. Grazie Fabio. In bocca al lupo, questa è la bottiglia firmata. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.